Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Video post per Milan Verona. Volevo dire al figlio del ciolo, le magliette di tuo padre, quelli dell'Atletico Madrid, sai dove le devi mettere. Io non te lo dico perché sono un signore, perché io ci credo ancora di andare a zittire lo stadio di tuo padre, e il Wanda, se gli arbitri si smettono di regalare il rigore agli altri, come oggi anche Laia ha fatto con te. Io ci credo di poter zittire il Wanda e restituire lo schifo di rigore fischiato da Jakir, perché oggi il rigore è fischiato a Kalinic. È una vergogna, dando questa maglietta che calcio, che non è come la terza maglia che ha debuttato stasera, ma mi sta arrivando la terza maglia simile a quella proprio fatta bene. Questo è un concept, è una maglia simile a quella terza, ma non è la terza. Ma quest'anno abbiamo, questa sera abbiamo giocato con la maglietta di io, quindi sempre magliette che i calci, poi mi lascio il link. Mi arriverà anche la terza, perché io voglio fare tutta la divisa del Milan. Anche la divisa rossa del portiere è veramente uno spettacolo. Anzi, meglio quella rossa che quella gialla, se mi dovete passare questa cosa. Quindi cercherò di avere anche quella, per completare tutte le divise del Milan. Perché quando io prendo le divise del Milan, qualche cosa vingiamo. L'ho fatto molti anni fa, con la maglietta del Milan di Nelson Dira. Abbiamo vinto lo scudetto nel 2004. Quando mi prendo le magliette, qualcosa vingiamo. Perché quest'anno bisogna vincere, perché se no Pioli e il suo staff vanno a casa. Per come la vedo io. Perché stasera vedere anche Rebic, l'elenco degli infortunati, è a rischio per martedì. Io ho i brividi e qualcuno deve andare a casa. Ma parlando di Milan-Verona, parlando di Milan-Verona, una partita che si era messa male nel primo tempo, dove abbiamo approcciato tipo derby l'anno scorso, ogni tanto Pioli regala queste perle di schifo, di approccia alla cazzo di cane, e regaliamo le partite agli altri. Poi dopo però, con i gambi, infatti chiedo scusa a Samu Kasti e Radekrunic, ci ho messo un po' a capirli. Però alla fine hanno avuto con un bucio di culo, perché se Gunter non liscia la palla, ma lì c'è Zio, lì c'è il mio Zio. Guardate cosa fa Zio, che dice che è finito. Solo la presenza, solo la presenza di Zio, ti fa fare l'autocolle a Gunter, andando ben meglio di verci l'uno, l'hai presa, al primo tempo ha fatto schifo, ma soprattutto, mi dispiace dirlo, ma ha fatto bene a togliere Maldini, perché Maldini è stato a del poco inguardabile, e quindi è stato giusto il cambio, perché non era proprio cosa. Serve un altro trequartista, e ma Daniel, con tutto il cuore, per me deve andare in prestito. Quindi, quindi, giusta la mossa di mettere Krunic, serve un altro centrocambista, Isco serve come il pane, se vuoi vincere qualcosa, per dare il cambio anche a Ibrahim, per avere un giocatore di qualità tra le linee, che ti faccia veramente la differenza. Ma questa è una vittoria che vale sei punti. vale sei punti perché sta in mano a Cristo, con gli infortunati, già il mese di settembre, il mese di ottobre, ed è uno schifo, e qualcuno deve andare a casa, l'hai vinta di rimonta, e si è visto lo spirito di gruppo, cioè, anche giocando, non dico bene, però hai voluto vincerla, cioè hai voluto andarla a prendere, hai voluto quella rabbia, quella cosa, e andiamo là, andiamoci a prendere. perché il bello è, e dobbiamo mantenere questa cosa qua, che quest'anno, a gennaio e febbraio, dobbiamo guagliare, perché l'anno scorso c'era uscita il mezzo campionato, quest'anno qualcosa si deve vincere, o se no, se no, Pioli va a casa, perché io non accetto un altro anno di guardare Inter o Juventus, che vincono qualcosa, e io non vingo niente, perché questo è lo spirito, ma a gennaio e febbraio, lì ci abbiamo il mese della verità, e lì dobbiamo arrivarci senza infortuni, e senza fare schifo, a regalare le partite agli altri, come abbiamo fatto oggi, e ribadisco, la società, due parole per lo schifo, di rigore dato oggi, per favore, fatele, ditelo un po' di schifo, lamentatevi come fanno tutti, ve l'ho detto anche l'anno scorso, se volete vincere, abolite lo stile Milan, o non vinciamo, o non vinciamo niente, perché oggi il rigore dato al Verona, è uno scandalo, in casa mia, si inventano i rigori per gli altri, in Italia e in Europa, io mi sono rotto del cazzo, mi sono rotto del cazzo, di rigori inventati, e interpretazione alla cazzo di cane, sono contro il Milan, eh? poi dico una cosa, di quello schifo di Lazio Inter, perché purtroppo, purtroppo, ha ragione la Lazio, con il regolamento di oggi, e vi spiego perché, perché poi qualcuno su YouTube, spara a stronzare, dovevano buttarla fuori, se fischia l'albitro, si ferma il gioco, perché con la regola vecchia, dovevano buttarla fuori, ma anche in questo caso, hanno detto che l'albitro deve fischiare, se l'albitro non fischia, si gioca, a qualunque costo, se l'albitro non fischia, reputa quella giocatore a terra, non esanime, puoi anche segnare, imbarba tutte le regole del fair play, del rispetto, e tutto quello che cazzo volete, purtroppo è così, se non fischia l'albitro, si gioca, anche se ti dicono di mettere palla fuori, è l'albitro che decide, è uno schifo, ma è così, questo per Lazio Inter, tornando, a Verona-Mina, a Milano-Verona, ribadisco, è una vittoria stra pesante, stra pesante per come è arrivato, non c'ho voce, non c'ho più niente, perché avevamo fatto letteralmente schifo, nel primo tempo, Baroture inguardabile, poi si è ripreso, Maldini, lasciamo perdere, sono un assist, una palla per Giroud, poi schifo totale, e quei giocatori, purtroppo, ribadisco, Tevernandez, si sente, Tadarusano, due tiri, due gol, lasciamo sta, lasciamo sta, fate giocare Mirante, vediamo un po', se potrà giocare Mirante, perché io mi sento molto più sicuro con Mirante, scusate, il francesismo, e la sincerità, perché il rigore, se c'era niente, era parato, sicuro, quindi, dobbiamo approcciare meglio le partite, questo va detto, va detto perché oggi, un altro approccio di merda, per i 25 minuti solo Verona, non va bene, se vuoi vincere, ribadisco quello che ho detto anche l'anno scorso, non puoi regalare 10, 20 minuti, come dico da tutto l'inizio di questa stagione, non puoi regalare le partite, regalare i gol, perché non ti può andare sempre bene, non la puoi sempre rimontare nel periodo positivo, sta anche il periodo negativo in cui magari Gunter, invece di fare l'autocolle, la palla la prende, la butta fuori, e tu perdi i due punti, perdi la partita, o peggio ancora, perdi, perdi, non vinci la partita, ribadisco, non puoi regalare niente a nessuno, non puoi regalare niente a nessuno, se l'approcci di merda, le altre squadre fanno male, e in Verona, dobbiamo ringraziare, che da tutta ora di Francesco, ne è cambiato un cazzo, schifo facevano e schifo fanno, perché oggi c'è una squadra un po' più sveglia, tu oggi avevi perso due punti, perché il Verona ha gli stessi identici problemi di Francesco, perché anche di Francesco partiva bene, giocava bene, ma poi subiva gola a moto trebbia, quindi Tudor, tanto che fa il fenomeno, sta facendo schifo, gobbo di merda, aperto in chiusa parentesi, e neanche Tudor ha portato sta grande meraviglia a Verona, schifo facevano con Di Francesco, e schifo fanno, perché alla fine il trend non è cambiato, anche con Di Francesco facevano schifo e prendevano gol tutti i 90 minuti, ma con Tudor almeno hanno giocato bene, ma alla fine conta vincere, e in Verona si è fatto fare tre gol, e quindi e quindi tra Tudor e Di Francesco io non vedo sto grande miglioramento, solo perché un ex Juventino ha portato miglioramenti, dove? Dove ha portato miglioramenti Tudor? Perdevano prima e perdevano adesso, con Di Francesco era schifo totale, oppure con Di Francesco andavano in vantaggio due gol e ne buscavano tre, solo che è proprio un problema che via Iuric, non si capisce più niente, ma adesso sotto col porto, martedì, martedì è fondamentale, martedì è fondamentale, oggi hai dato l'entusiasmo per martedì, col porto, ve lo dico già stasera, il giocatore del Milan doveva essere sei punti, in qualunque modo, perché poi dobbiamo andare a ficcare le magliette a Simeone e al Vanda, quindi, col porto dovete vincere, e la partita di stasera è un antipasto per martedì, martedì è una battaglia, lasciate perdere i cinque gol che ha fatto il Liverpool, non li contiamo, noi martedì andiamo a fare una battaglia, perché io non voglio uscire dalla Champions per vincere il campionato, non mi fate niente queste stronzate, io in Champions voglio andare avanti il più possibile, perché non si sa mai, non si sa mai che puoi combinare in Champions League chiamandoti Milan, perché io sentendo quelle stronzate, usciamo dalla Champions per vincere il campionato, non siete tifosi del Milan, il Champions per il Milanista è tutto, quindi io in Champions voglio andare il più avanti possibile, quindi martedì si va a fare la battaglia, si va a Portelli, si va a sfondare, andate e ritorno, e poi ce la giochiamo con l'amico Simeone al Vanda per riprenderci lo schifo di Chakir, perciò vi faccio questo video oggi, perché avete fatto la buona partita, il buon secondo tempo col Verona, ma il primo tempo avete fatto schifo, non dovete regalare le partite a nessuno, ci sono i meriti anche degli altri, però l'approccio è stato un'altra volta di merda, passaggi sbagliati, appoggi sbagliati, sembravamo da un'altra parte, non va bene, se vuoi vincere, devi approcciare bene le partite, te li devi mangiare, subito, specie in casa, come hai fatto con l'Atletico i primi 28 minuti, prima quello indegno di Chessy si facesse cacciare, e oggi ha battuto un grande rigore, a proposito, bene il gol di Giroud, bene il rigore di Chessy dopo aver aspettato un'ora e mezza e tre minuti per decidere un rigore sacrosando quello su Castiglieco, e bene il zio che al momento giusto solo con la presenza, fa fare l'autocolle al Hunter, ma tu devi approcciare bene il primo tempo, il primo tempo non va approcciato in quel modo, sbagliando la formazione, Pioli, per ti chiusa i palenzi, formazione iniziale, non hai Diaz, fai giocare che sei trequartista, fai giocare bene a Ser, fai giocare bene a Ser, ma Maldini, non è cosa, gli voglio bene, ma non è cosa, può dare un contributo a partite in corso, ma titolare non è cosa, filare non è cosa, non è proprio cosa, gli manca o va in prestito per fare le ossa e diventare un gol, e poi torna, ma se no, con tutto il bene, non è cosa, perché giochi un rimedio, quindi, come hai cambiato, a fine, è tornato il suo vedomino, ma gli u, se vogliamo vincere, quest'anno, se vogliamo quagliare qualcosa, gli errori, devono essere pari a zero, come dice, il mio mister Rocco Melchiorre, gli errori, devono essere pari a zero, pari a zero, gli approcci, devono essere pari, gli errori, pari a zero, non puoi sbagliare la formazione iniziale, non puoi partire in quel modo, facendoti, mettere a giro dal Verona, con tutto il rispetto, che ha giocato una grande partita, ci sono anche i meriti, dei primi 20 minuti, poi hanno fatto schifo, come ho detto anche prima, da Tudor a Di Francesco, da Di Francesco a Tudor, non è cambiato niente, ma tu hai sbagliato completamente l'approccio iniziale, l'approccio iniziale è proprio uno schifo, mi è sembrato rivedere il derby dell'anno scorso, dove ci facevano tre gol, non c'era niente da dire, a parte lo schifo di rigore che gli hanno dato, ma proprio l'approccio di testa, uno deve rasentare la pignoleria, per essere un vincente, devi rasentare la pignoleria, vuoi essere un pignolo, vuoi essere, se vuoi vincere, gli approcci, non puoi fare quegli approcci di merda, che gli altri, poi non la recuperi più, il periodo buono, non è sempre buono, a gennaio-fabbraio, se sta partita gira a storta, hai perso tre punti, e lo scudetto va a Inter, Juventus o Napoli, e noi vediamo gli altri vincere, questo è importante, guardarci negli occhi e dirselo prima, ribarisco, ribarisco, quindi oggi stracontento per la vittoria, ma cominciate a entrare in quella mentalità che gli errori, ve l'ho sempre detto e ve lo continuerò a dire, si pagano, gli approccia a cazzo di cane, non li puoi sempre ribaltare, le formazioni, caro ste, non si possono sbagliare, siamo alla quinta, che papacazzo di cane, non c'ha Ibrahim, gioca benasser, trequartista, a Emboli lo faceva, gioca che si, trequartista, con tutto il bene che voglia Maldini, non si può, non si può, se si va bene, deve giocare, però, male, male, per me è male, 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 uno schifo, gioca uno in meno, se Ibrahimovic però, non ti può andare sempre bene, con tutto il bene, io preferisco che entra magari a partite in corso, per fargli fare esperienze, oggi è primo minuto, male, se l'hai tolta a primo tempo vuol dire che non è andata, con tutto il bene, ribadisco, perché è un nostro patrimonio, a sto punto facciamo tornare Holzer, per chi chiusa parelle, quindi, quindi questo è, io sono senza voce, sono distrutto, sono stanco perché solo a vedere il mio zio che entra e fa quello a gancio e poi fa la segnale rovesciata, a tutti quelli che dicono che è finito, eh, andate a fangulo, perché come, solo come entra, a 40 anni il zio fa l'autocollo a Gunther, e nisce perché c'è il zio dietro, aspettiamo per darlo per morto, può ancora dare, specie martedì, e martedì c'è un record da battere, e ribadisco, hashtag io ci credo, nella Champions League, non mi fate sentire, usciamo dalla Champions per vincere il campionato, è una stronzata, in Champions si deve andare avanti il più possibile, blasone, rimettiamo a posto il nome Milan, eh, e poi pensiamo al campionato, che tanto il campionato si decide a marzo, io voglio stare in Champions League il più possibile, perché poi, la musichetta, eh, si può mai sapere, noi, ne sappiamo vincere le Champions, quindi questo è anche un video motivazionale per martedì, martedì poi, video post partita, martedì, domani, se riesco a recuperare la voce, c'è degli impegni da fare, che domani, grazie a Dio, con la mia squadra è un po' rispedacciato, non giochiamo, noi ci alleniamo, quindi mi riposo un po', domani mi godo la domenica, quindi, mi riposo un po', e questo è un video, post, Milan Verona, ma anche pre, Porto, perché hashtag, io alla Champions, ci credo, hm, non facciamo la stronzata, di mandare tutta puttana nella Champions League, per poi, andare tutto sul campionato, non vinciamo neanche quello, e poi facciamo schifo totale, in Champions League dobbiamo stare, per riabituarci, che già abbiamo capito che area è, hm, allora, conclusione del video, magliette che invega il calcio, mi metto il link, mettete un like a questo video, mi ditemi, nei commenti, migliore e peggiore, poi vediamo, ne parliamo nei prossimi video, ciao a tutti, grazie a tutti,